MIGUEL Federico, Federico e Miguel hanno lasciato definitivamente il programma. L'eliminazione di Miguel ha commosso un po' tutti. I professionisti si sono stretti attorno a lui e anche Timor Stephens è scoppiato a piangere. Il coreografo ha riconosciuto al ballerino l'impegno, l'umiltà e i miglioramenti fatti in pochi mesi, partendo da zero. Inoltre, ha visto in Miguel il suo percorso da ballerino e per questo si sentiva molto vicino a lui. Amici di Maria De Filippo. Le parole di Miguel dopo l'eliminazione. Miguel ha voluto scrivere un post su Instagram per parlare dell'esperienza vissuta ad amici. Ecco le sue parole. Posso dire solo una cosa, sono felice. Ho vissuto momenti bellissimi all'interno di questa fighissima scuola. Inoltre, il ragazzo ha voluto parlare ai giovani che come lui hanno un sogno. Spero che il mio percorso sia d'ispirazione per tante persone che hanno un sogno nel cassetto e che per paura di fallire, punto punto punto, non ci provano perché è un grande sbaglio. Nella vita avere una passione barra sogno è importante perché vi spinge ogni giorno a lottare e a non arrendervi mai. Inoltre vi aiuta a vedere la vita con altri occhi. Poi ha ringraziato tutti i professionisti e le persone che lavorano ad amici. Ha menzionato, in particolar modo Tim, per averlo sostenuto e aiutato a crescere, e Maria De Filippo per l'opportunità. Infine, ha detto una cosa semplice ma molto chiara per la gioia di tutti quelli che lo seguono e che si sono affezionati a loro. Non mi arrenderò qua. Ho promesso a me stesso che da adesso in poi lavorerò moltissimo per diventare più forte. Amici di Maria De Filippi, le novità del serale Il direttore artistico del serale di Amici è Giuliano Peparini che è tornato nel programma con molto entusiasmo. Il coreografo sta conoscendo tutti i concorrenti per poter lavorare con loro al meglio. La squadra blu è formata da Tish, Gefeo, Alberto, Mogli, Valentina e Vincenzo, mentre nella squadra bianca ci sono Giordano, Ludovica, Mameli, Alvis, Umberto e Rafael. I due coach saranno Ricky Martin e Vittorio Grigori